Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoeUpa17 e oggi ragazzi vi do il benvenuto nel tanto decantato video in cui finalmente vi annuncerò il nuovo ID Nintendo Network barra profilo che utilizzerò per giocare con voi solo su Splatoon. Ragazzi è giovedì, sono le 13, come promesso troverete questo video online. Prima di iniziare a dirvi il nome di questo profilo e prima che voi iniziate ad inviarmi le amicizie, ragazzi vorrei fare solo un paio di premesse. Il primo profilo che vi annuncerò ragazzi sarà dedicato solo a chi gioca o chi possiede Splatoon e vuole giocare con me ragazzi. Ne ho creati altri 6 che vi annuncerò sempre in questo video per tutti coloro che non possiedono Splatoon, non giocano Splatoon, ma comunque vogliono inviarmi l'amicizia sulla Wii U per poter magari comunicare con me perché magari non possiedono Facebook o non hanno la possibilità di scrivermi dei messaggi sotto ai miei video di YouTube. Quindi ragazzi per prima cosa vi chiedo ordine, non inviatemi l'amicizia nel primo profilo che vi annuncerò se non possedete Splatoon in modo da non occupare spazi inutilmente perché considerate che purtroppo Nintendo permette ad ogni profilo di avere massimo 100 amicizie. Invece Sony e Microsoft questo limite diciamo che ce l'hanno un pochettino più grande, arrivano fino a 2000 amicizie per profilo. Purtroppo Nintendo ha deciso per 100, quindi ragazzi vi prego se non possedete Splatoon non giocate a Splatoon, non inviatemi l'amicizia nel primo profilo. In modo da poter lasciare spazio a tutti quelli che lo possiedono, tutti quelli che ci giocano, così da avere 100 posti disponibili per tutti gli amanti di Splatoon che vogliono giocare con me ragazzi. Io spero che abbiate tutti la possibilità di rientrare in questi 100, se per caso non doveste rientrare in questi 100 ragazzi mi dispiace, purtroppo non ci posso fare niente. Se però comunque volete inviarmi l'amicizia, anche se possedete Splatoon però siete stati esclusi da questi primi 100, potete inviarmela in uno o qualsiasi degli altri 6 profili che ho creato stasera apposta e potrete rimanere con me in contatto ragazzi. Io ho questi profili, compreso questo qua di Splatoon e quello vecchio ragazzi che si intitolava Setfire 17 che comunque rimarrà attivo e utilizzerò quello per giocare su Mario Kart 8 e Super Smash Bros perché ho tutti i salvataggi su quel profilo lì, purtroppo non si possono spostare questi salvataggi, sono legati al profilo su cui vengono salvati. Ho provato a spostare quelli di Splatoon ma non si possono spostare perché comunque i trofei o i tornei su Mario Kart 8 e Super Smash Bros sono aperti a tutti ragazzi. Il codice che trovate e che vi comunico ogni volta nell'info time Nintendo serve semplicemente per cercare il torneo trofeo nella barra di ricerca ragazzi, così è anche più facile da trovare in tutta la lista di tutti i tornei attivi in quel momento lì. Per il resto è aperto a tutti quindi non c'è bisogno che abbiate inviato l'amicizia e non c'è bisogno che io abbia accettato la vostra amicizia in uno dei miei profili ragazzi. Invece su Splatoon per giocare quelle private diciamo che solo chi mi ha inviato l'amicizia e rientra nei 100 potrà giocare con me ragazzi perché purtroppo su Splatoon la cosa è così. Le mische mollusche pubbliche invece diciamo che se mi beccate e non mi avete inviato l'amicizia o io non ho potuto accettarvela ragazzi perché io accetto tutti di tutti i livelli non mi interessa basta che giochiate a Splatoon. E' diciamo un po' più difficile potrebbe darsi che mi beccate ma ragazzi diventa una cosa veramente impossibile. Quindi dopo queste piccole due premesse vi chiedo ordine perché ho visto su youtube altri youtubers che hanno fatto la stessa cosa per giochi come Clash of Clans o altri giochi magari per smartphone o altri giochi per console. Ed è venuto fuori un putiferio perché molti non erano rientrati nella categoria è saltato poi fuori che lo youtuber aveva comunicato il nome prima. Io ragazzi non ho detto il nome di questo profilo a nessuno perché voglio che partiate tutti uguali in molti me l'avete chiesto sul canale in molti mi avete detto dai aggiungimi tu no ragazzi io non aggiungerò nessuno lo so che molti di voi sono minori di 13 anni però in questo video ragazzi troverete la spiegazione su come inviarmi l'amicizia anche se siete minorenni cioè avete meno di 13 anni secondo nintendo. Vi spiegherò più avanti nel video come fare però non aggiungerò nessuno ragazzi sarete voi a dover aggiungere me questa è una piccola un'altra piccola premessa che voglio farvi per non avvantaggiare nessuno ragazzi è come questa qui è come se fosse una gara la gara dei 100 metri ragazzi non c'è nessuno che parte prima partite tutti uguali. Io spero come vi ho detto che sul mio canale siate in tanti o almeno comunque un buon numero che giochino a splatoon ma magari inferiore a 100 in modo da poter rientrare tutti in questo gruppo. Se siete di più comunque ragazzi ho creato 7 profili compreso quello di splatoon quindi spazio ce n'è perché siamo 620 sul canale ci sono 700 posti disponibili ragazzi. So che molti non hanno la Wii U però comunque ho dato anche a loro una possibilità per magari inviarmela in caso dovessero poi comprare la Wii U in futuro. Perfetto ragazzi andiamo a vedere questo profilo quindi state pronti adesso io dovrò staccare un attimo però per voi passeranno solo un paio di secondi. Ok ragazzi come potete vedere amici zero l'amicizia me la dovrete inviare a questo nintendo network ID. Joe Pad 17 splatoon quello in arancione ragazzi l'altro è il nickname che si può cambiare 3000 volte quello lì invece è fisso non si può cambiare e ne esiste solo uno. Mi dovrete inviare l'amicizia a Joe Pad 17 splatoon così come lo vedete scritto con le lettere maiuscole e le lettere minuscole corrette ragazzi. Quindi mi raccomando per chi possiede splatoon o gioca splatoon inviatemi l'amicizia a questo profilo. Tutti quelli invece che non possiedono splatoon ma comunque vogliono rimanere in contatto con me dovranno inviarmi l'amicizia a questi profili qua che adesso vi faccio vedere uno per uno. Ok ragazzi il primo profilo che ho creato per tutti quelli che non possiedono splatoon non giocano splatoon quelli che dovessero risultare esclusi dai 100 che giocano splatoon ma comunque possiedono splatoon vi ricordo quelli esclusi dai 100 inviatemi pure l'amicizia al nintendo network ID Joe Pad 17 trattino basso numero 1 così come lo vedete scritto. Questo profilo qua ragazzi lo utilizzerò solo per comunicare con voi non lo utilizzerò in nessun gioco. Passiamo al secondo profilo che ho creato ok ragazzi questo è il profilo numero 2 che ho creato anche qui solo per comunicare con voi ed è dedicato a tutti quelli che non possiedono splatoon non giocano splatoon ma vogliono comunque rimanere in contatto con me oppure a quelli che possiedono splatoon ma non sono riusciti a rientrare nella lista dei 100. Quindi comunque potrete inviarmi l'amicizia e rimanere in contatto con me questo profilo non lo utilizzerò mai in nessun gioco ma solo per comunicare con voi. Ok ragazzi profilo numero 3 anche questo qua dedicato a chi non possiede splatoon ma vuole comunque rimanere in contatto con me oppure a quelli che non sono riusciti a rientrare nella lista dei 100 e possiedono splatoon ma comunque vogliono rimanere in contatto con me ragazzi. Dovete scriverlo come lo vedete scritto qua geopad 17 trattino basso 3 mi raccomando le maiuscole e le minuscole. Passiamo al quarto profilo ok ragazzi quarto profilo sempre geopad 17 trattino basso stavolta 4 anche questo qui sempre dedicato a chi non possiede splatoon ma vuole comunque rimanere in contatto con me. E a quelli che possiedono splatoon ma non riusciranno a rientrare tra i primi 100 del profilo dedicato proprio a splatoon. Quindi comunque potrete rimanere in contatto con me basta che mi inviate l'amicizia a questo al profilo numero 3 al profilo numero 2 al profilo numero 1 al profilo numero 5 o al profilo numero 6 ragazzi. Distribuitevi bene così non c'è il rischio che qualche profilo si riempa prima degli altri tanto li controllerò tutti comunque ragazzi per vedere se mi inviate di messaggio oppure no. Ok ragazzi profilo numero 5 geopad 17 trattino basso 5 questo qua ha sempre le stesse funzioni del profilo 4 3 2 e 1 quindi per tutti quelli che non possiedono splatoon ma vogliono comunque rimanere in contatto con me oppure a quelli che possiedono splatoon ma non riusciranno a rientrare nei primi 100 del profilo dedicato a splatoon ma comunque vogliono rimanere in contatto con me anche se non avranno la possibilità di giocare. Passiamo all'ultimo profilo che ho creato come potete vedere ragazzi mi sono dato da fare ok ragazzi ultimo profilo che ho creato questa sera che si chiama geopad 17 trattino basso 6 è dedicato come il profilo numero 5 4 3 2 1 a tutti quelli che non possiedono splatoon non giocano a splatoon ma vogliono comunque rimanere in contatto con me Oppure a quelli che possiedono splatoon ma non sono riusciti a rientrare nei primi 100 del profilo dedicato a splatoon Perfetto ragazzi quindi questi 6 profili qua che vi ho mostrato sono dedicati a quelle persone lì adesso torniamo in quello dedicato a chi possiede splatoon Ok ragazzi eccoci tornati qua questo qui è il profilo dedicato solo a chi gioca o possiede comunque splatoon e vorrebbe giocare con me Ricordatevi che i posti disponibili sono 100 chi non lo possiede prego di inviarmi l'amicizia in uno degli altri 6 profili che vi ho mostrato Per lasciare spazio libero a chi gioca e chi vuole giocare con me su splatoon Ricordatevi il nome da inserire l'id da inserire è geopad 17 splatoon quello in alto a destra arancione Molti di voi però mi hanno detto che sono minorenni cioè hanno meno di 13 anni secondo nintendo e non potrebbero inviarmi l'amicizia su splatoon Ragazzi adesso andiamo sul sito ufficiale nintendo in cui vi spiego come fare così almeno non partite svantaggiati rispetto ai maggiorenni O comunque chi ha più di 13 anni o chi ha già 13 anni Ragazzi andiamo subito sul sito ufficiale nintendo e vi leggo subito come fare in più troverete le varie schermate qua nel video Quindi potrete poi leggervele con voi anche con calma se per caso magari non riuscite a fare qualche passaggio chiedete a mamma e papà Come potete vedere ragazzi siamo nella pagina ufficiale nintendo è dedicata al servizio al consumatore come registrare gli amici Esistono due modi per registrare un amico su wii u ma a prescindere dal metodo utilizzato è necessario che tu conosca il suo nintendo network id Nota non è possibile inviare richieste ad un utente che abbia deciso di non riceverne Io ragazzi ho lasciato tutti e sette i profili aperti quindi tutti potete inviarmi l'amicizia Per registrare i tuoi amici segui questi semplici passaggi che adesso vediamo con calma Metodo 1 registrare gli amici attraverso miiverse Entra nel menu miiverse attraverso il menu wii u o il menu home e questo qua praticamente Cerchiato di azzurro ragazzi questo qui con i tre personaggi verdi Seleziona menu utente che è la prima icona in alto a sinistra nella barra verticale Tocca cerca tra gli utenti che è la barra centrale dove c'è proprio scritto cerca tra gli utenti Inserisci il network il nintendo network id del tuo amico e poi conferma Quando compare il nintendo network id del tuo amico puoi visualizzare le sue informazioni selezionando vedi profilo Punto 6 nella pagina del suo profilo tocca richiesta d'amicizia e la tua richiesta sarà inoltrata Le richieste agli amici inviate in questo modo compariranno nella lista di amici nella sezione richiesta d'amicizia ricevute Delle notifiche di meiverse Non appena tuo amico accetterà la richiesta comparirete ciascuno nella lista di amici dell'altro Quando ricevi delle richieste d'amicizia puoi decidere di accettarle o respingerle Io ragazzi non respingerò nessuno indipendentemente dal livello che ha su splatoon Può avere il livello 1 può avere il livello 50 per me non cambia niente Voglio che tutti abbiate la possibilità di giocare con me Ricorda di accettare esclusivamente le richieste di persone che conosci Vabbè questa cosa qua dovevano scriverla per forza ragazzi Il metodo 2 invece è proprio dedicato a voi ragazzi che avete meno di 13 anni Perché c'è scritto Premi il pulsante home poi tocca la lista di amici Il pulsante home ragazzi è quello con la faccina che vedete qua circondato di azzurro Tocca registra amico o premi il pulsante più Poi inserisci il nintendo network id del tuo amico e conferma Registra amico è praticamente uno dei tasti che c'è nella barra orizzontale sotto la lista di amici ragazzi Punto 3 puoi scegliere di inserire un messaggio da inviare insieme alla richiesta d'amicizia In questo caso ragazzi scrivetemi magari il vostro id nintendo network Così io leggo il messaggio, leggo la richiesta d'amicizia, reinserisco il vostro id e vi posso aggiungere Nota se hai meno di 13 anni o se il tuo amico ha scelto di non ricevere richieste d'amicizia Anche questi dovrà completare i passaggi 1 e 2 perché possiate diventare amici Quindi io dovrò andare nella lista di amici, toccare registra amico o premere il pulsante più E inserire il vostro nintendo network id Le richieste agli amici inviate in questo modo compariranno nella lista di amici nella sezione richiesta d'amicizia ricevute Quindi anche se siete minorenni o meno di 13 anni e io devo star lì a reinserire il vostro id Comunque comparirete nella lista di richiesta di amicizia ricevute Delle notifiche di miniverse Non appena il tuo amico accetterà la richiesta comparirete ciascuno nella lista di amici dell'altro Quando ricevi delle richieste d'amicizia puoi decidere di accettarlo e respingere il solito messaggio di prima ragazzi Spero di aver risolto ogni dubbio Adesso ragazzi torniamo su Splatoon per i saluti finali Ok ragazzi come potete vedere sono nel nuovo profilo Purtroppo non ho ancora avuto tempo per farmarlo e crescere di livello Comunque lo farò presto Al massimo ragazzi mi aiuterete voi con le nuove mischie mollusche Spero che tutta la spiegazione su come inviarmi l'amicizia su questo profilo L'abbiate ascoltata e vista tutta ragazzi Mi raccomando se vi siete persi qualcosa Tornate indietro in questo video e magari guardatelo due volte Spero che abbiate visto più che altro tutto il video Come vi ho detto i posti sono limitati Spero comunque che abbiate tutti la possibilità di entrare in questo profilo dedicato a Splatoon Tutti quelli che comunque giocano a Splatoon O comunque possiedono il gioco e vorrebbero giocare con me Chi magari sta guardando questo video e ha già trovato la lobby chiusa Ragazzi una volta arrivati a 100 bloccherò l'invio di richieste d'amicizia Perché comunque se siamo 100 è inutile che mi inviate l'amicizia Per rimanere sempre in attesa ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Vi chiedo solo ordine E diciamo disciplina ragazzi Non fate casini Io ho cercato di fare e organizzare il tutto nel modo più corretto possibile Perché tutti abbiate almeno un'opportunità Considerate che siete 600 I posti disponibili sono 100 Di queste 600 persone non penso che tutti sul mio canale abbiate una Wii U Avete una possibilità sicuramente su 6 di entrare in quei 100 Se non addirittura qualcosina di più Quindi ragazzi buona fortuna a tutti Come sempre se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate se avete magari delle domande da farmi o dei dubbi Commentate pure tanto sapete benissimo che io vi rispondo a tutti quanti Condividete questo video con i vostri amici Se magari volete aiutarli anche loro a rientrare nei 100 Iscrivetevi naturalmente al canale per non perdervi i prossimi video dedicati a Splatoon E tutte le altre serie che sto facendo sul canale E ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Splatoon Alla prossima ragazzi